Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, sempre di Catania, ha avviato una campagna finalizzata al controllo a tappeto dei beneficiari delle misure di detenzione alternative al carcere. In particolare l'attenzione dei militari dell'arma è stata rivolta a quei soggetti a cui è stato consentito di svolgere un'attività lavorativa all'esterno dei luoghi di espiazione della pena. L'attività d'indagine svolta dai carabinieri è stata effettuata su 135 soggetti segnalati al termine di un attento monitoraggio dai comandi di compagnia carabinieri competenti per territorio nell'ambito della provincia etnea. Ben 25 sono infatti casi di sospetto impiego lavorativo dei soggetti destinatari del beneficio carcerario, mentre tra i restanti 110 soggetti alcuni sono risultati regolarmente assunti e altri non avrebbero mai intrapreso l'attività lavorativa. Gli ultimi controlli svolti sino a novembre sono stati svolti dai carabinieri della compagnia di Randazzo, che insieme ai colleghi specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania hanno ispezionato diverse aziende operanti nel settore agroalimentare di Bronte, scoprendo 11 lavoratori in nero ed elevando sanzioni per oltre 35 mila euro. Nello specifico, durante gli accertamenti in un'azienda agroalimentare Sita in Contrada Roccarello, è stato scoperto un operaio adranita di 39 anni che è risultato essere sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di Polizia di Stato, con obbligo di soggiorno, ma che non era stato regolarizzato per tutti i periodi in cui aveva lavorato per quella stessa azienda. Per il titolare è pertanto scattata la maxi-sanzione per lavoro nero progressivo dell'importo di 3.600 euro. Inoltre, a seguito dei controlli effettuati su input dei militari operanti, l'autorità giudiziaria ha già revocato l'autorizzazione a recarsi al lavoro di un soggetto di Biancavilla, sottoposto a misura di detenzione domiciliare, che pur essendo titolare di una partita IVA per l'esercizio di autolavaggio, non si era mai iscritto alla Camera di Commercio e non aveva fornito alcuna comunicazione al Comune sull'attività intrapresa e inoltre aveva utilizzato maestranze e due lavoratori in nero. Tra i vari casi emblematici emersi, quelli portati alla luce dai militari della Compagnia di Paternò, che hanno documentato come un 31enne del posto non si fosse da tempo presentato presso un frantoio di contrada a Cuturella, luogo di lavoro indicato all'autorità giudiziaria per ottenere il permesso. I militari della Compagnia di Paternò, inoltre sempre supportati da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno scoperto altri due detenuti domiciliari con permesso di lavorare, che prestavano la loro opera in nero e senza la prevista sorveglianza sanitaria. Si tratta in particolare di una carrozzeria di Adrane e di un bar tabacchi di Biancavilla, che complessivamente su dieci lavoratori effettivi ne avevano impiegati sette senza contratto e visita medica. Tra questi vi erano appunto anche le due persone sottoposte alla misura alternativa al carcere. Per entrambe le aziende è quindi scattata una maxi-sanzione per un valore totale di 69.300 euro e il recupero dei contributi previdenziali assicurativi per 16.500 euro, nonché la sospensione imprenditoriale delle attività.